Nome? Beatrice parrocchiale. Professione? Palavolista. Hai avuto una carriera eccezionale sia a livello di club che in nazionale, con vittorie importanti riconoscimenti. Come gestisci la pressione prima e durante le sfide più importanti? Ma semplicemente cerco di stare alla mia routine, mi piace stare insieme alla mia famiglia, ai miei cani, rilassarmi e cerco di essere sempre in forma, ovviamente mangiando bene e con la giusta integrazione. Qual è l'elemento che rende un ottimo atleta un campione? Questo non te lo so dire, sicuramente una vita sana e ripeto, come ho detto prima, sempre attenendosi alla propria routine e a fare le cose che ci fanno stare bene. Hai recentemente cambiato club, quali sono le sfide e le opportunità che incontri in questa nuova fase della tua carriera? Sicuramente è stato un cambiamento difficile, però i cambiamenti sono sempre belli perché non sai mai cosa ti può aspettare ed è stata una scoperta bellissima essere arrivata a Scandici, mi sono tolta tante soddisfazioni e spero di togliermene altre. Poi Scandici, Firenze è una città meravigliosa, si vive benissimo quindi sono solo che contenta, sono tutte good vibes diciamo così e cerco di coglierle tutte perché dopo anni dove magari hai un po' di alti e bassi c'è proprio bisogno di energia positiva. Hai giocato a livelli altissimi sia in Italia che all'estero, sei soddisfatta della tua carriera fino ad ora? Sì, sono soddisfatta ma vorrei cercare di vincere qualcosa di più perché non voglio mai accontentarmi, ho tanti sogni ancora però se mi guardo indietro e penso veramente alla ragazzina, alla bambina che ero quando ho cominciato a giocare penso beh allora forse ce l'ho fatta un pochino ma però non voglio accontentarmi. E quindi quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Cercare di vincere qualcosa con il club e magari un giorno di nuovo essere riconvocata in nazionale. Qual è il tuo rito scaramantico prima di affrontare una grande partita? Ascolto sempre le stesse tre canzoni. Quali sono queste tre canzoni? Diciamo che ogni anno io cambio in base un po' al mood e tutto quanto però l'ultima è sempre di Beyoncé, sempre. Grazie Beatrice. Grazie a tutti. Oh, ok.